Ciao ragazzi, sempre per le nostre pillole Body Set Mindset, oggi vediamo un altro esercizio preso in prestito dal tapping che va a stimolare uno dei punti riflessologici del nostro viso per abbandonare le preoccupazioni. Come sempre questo esercizio non solo ci aiuta a livello emotivo, ma ci aiuta anche a livello estetico a renderci più belli perché chiaramente migliora la circolazione linfattica e sanguigna nel luogo dove andiamo a picchiettare. Si tratta di picchiettare esattamente qui sotto gli occhi, sopra gli zigomi praticamente appena qui e questo picchiettamento ci aiuta a rilasciare le preoccupazioni in questo modo, sotto entrambi gli occhi, partendo dal centro vicino al naso e andando verso l'esterno, verso l'angolo dell'occhio, quindi dall'angolo interno dell'occhio all'angolo esterno, delicatamente come un piccolo tamburellare. Mentre lo faccio posso anche dire lascia andare le mie preoccupazioni, lascia andare le mie preoccupazioni, lascia andare le mie produzioni o permetto a me stessa di lasciare andare le mie preoccupazioni. Questo esercizio se fatto quotidianamente ci aiuta ad allontanare il nostro stato di preoccupazione non solo ma se fatto anche al mattino ci aiuta a sgonfiare questa parte diciamo.